Musica Juanfra, credo che si pone 60. Se pone che quando utilizza le due mani sono 60 repubbili. Hazlo 30. Perciò. 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 Tres perciò. Se sienta. Una mano derecha arriba. Una mano derecha. 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 ¿Cuál era el que había hecho antes? Una mano derecha. Una mano derecha. Una mano derecha. Una mano derecha. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.